ciao a tutti oggi sono tornata per farvi vedere i nuovi acquisti unicorno a forma di unicorno sapete che io adoro gli unicorni mi piacciono tantissimo e finalmente ho trovato questo simpaticissimo unicorno guardate com'è carino è un lip balm lo andiamo ad aprire assieme allora apriamolo è super carino ecco coloso guardate è bellissimo ed è di legami si apre mi pare da dove si apre lui da qua sotto dovrebbe aprirsi vediamo ecco qua da qua sotto è rosino di un rosa molto intenso ed è anche vi dico subito super profumato sono un po di caramellina buono 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 il profumo è veramente buono bello è molto carino che dite vi piace opla mi stavo accadendo lo trovo molto molto dolce come unicorno mi ero innamorata ho fatto un po di fatica a trovarlo lo appoggiamo qua così lo vediamo questo l'abbiamo già spacchettato assieme in uno scorso video vedete aperto l'ho rimesso qua per farvi vedere la confezione è un packer pops e anche questo ho fatto tanta fatica a reperirlo guardate com'è carino ve lo faccio rivedere perché questo è veramente super 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 carino si apre così si può attaccare alla borsetta alle chiavi un po' dove volete e rimane tipo un piccolo gelato a forma di gelato secondo me e si apre così eccolo qua ed è super super glitterino vedete ha tantissimi glitter è proprio bello bello e bello proprio anche lui è tutto glitteroso anche diciamo la parte che ricopre il gelato bello secondo me è molto molto carino e molto dolce andiamo ad aprire anche l'altro a forma di unicorno questi sono lips maker sono molto felice di averli trovati ho trovato sia la versione burro cacao sia la versione glossino vedete sono simili ma non uguali questo è un burro cacao e questo è un gloss li apriamo subito assieme guardate super carina bellissima anche la confezione perché ci sono dei gelati secondo me la panna dei gelati con le ciliegie disegnata sopra e ti spiega qui in altro qua in alto che un lip balm lo apriamo allora apriamo subito sono super emozionata perché anche questi è da tantissimo tempo che cercavo e facciamo un po di fatica a trovarli in offerta soprattutto perché sapete che io vi consiglio sempre di accapparrarvi gli articoli che vi piacciono in offerta io li ho pagati poco tipo 2 euro o qualcosa super carino invece che 5 6 euro allora il cornino un po pericoloso già ve lo dico perché è duro quindi state attenti a non farvi male a non usarlo come arma di difesa perché è super duro ed è molto molto carino andiamo ad aprirlo wow ecco io non sapevo che fosse viola è un viola molto carino lilla viola andiamo a vedere un attimo dal super vicino andiamo anche a provare qua così sì è super morbido super idratante la profumazione è buonissima sa di frutti di bosco vediamo se c'è scritto qua non lo vedo scritto però dice e floreale bo io sento il frutto di bosco dentro 4 grammi di prodotto io sento i frutti di bosco comunque è unicorno magico bello bello che dite io direi che è super 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 carino vediamo anche l'altro subito assieme guardate proprio bello da tenere in borsetta ma anche da tenere sopra la scrivania veramente carino mettiamo qua insieme sui fratellini apriamo anche la versione gloss anche questo a questo ai cupcake vedete questo aveva la panna con le ciliegie questo ai cupcake disegnati sopra bello questo era 4 grammi e questo 8,4 millilitri super super bellino bello mi dispiace quasi quando li apro perché sono così carini anche da vedere confezionati secondo me sono super belli da regalare per esempio all'amica o all'amico del cuore perché no sono veramente belli sia per lui che per lei trovo che sia un regalo molto carino sognante che ci fa anche un po' capire che l'altra persona ha dei gusti molto delicati no guardate che bello 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 allora vediamo la confronto con l'altro sono simili ma non identici questo ha la frangettina il ciuffo un po' più ricciolino e questo è un po' più liscio gli occhi rosa e questo ha gli occhi neri sapete che questo è già il prodotto non è un disegno quello che vedete qua quindi quando adesso andremo ad aprirlo probabilmente si disferanno un po vedete già anche qua si vede si disfano un po le righe occhio che lo andiamo ad aprire vediamo subito è super super sigillato vediamo com'è sarà chiaro immagino come colorazione sembra un po duretto vediamo ma no 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 è super morbido bello ed è neutra la colorazione trasparente ed è profumato sa ecco sa di biscotto sa di dolce invece quell'altro sapeva di frutta bello si vedete all'interno non so se si vede c'è il prodotto che internamente bianco poi se andiamo a grattare le pareti si mescolano le righe carini eccoli trovi è super con tutto adesso che è perlato e perlescente questo glossino bello bello che dite fatemi sapere nei commenti se vi piacciono se volete che compro altri lip balm a tema unicorno e come sempre che so che volete sentire se è di plastica o di vetro direi che è tutto di plastica carini ecco questi sono il lip balm unicorno della mia piccolissima collezione penso che ne esistano anche altri mandatemi link così li compriamo e andiamo aprirli assieme e li vediamo quindi con la famiglia allegro unicorno vi salutiamo e ci vediamo come sempre il prossimo video un bacio dalla vostra lalix ciao